Ha un protagonista che è Marco, Marco Peone, che è un nostro amico con cittadino. In questa giornata in particolare abbiamo la presenza di tutti i sindaci dei comuni vicini a Mappano, quindi c'è il sindaco di Borgano, c'è il sindaco di Cazelle, c'è il sindaco di Settimo e il sindaco di Ligni. Tra l'altro, come me, già poco, il sindaco di Settimo e di Ligni hanno fatto il loro nuovo ingresso e anche loro si sono messi a servizio di tutti i cittadini. Il momento continuerà, dopo un momento di introduzione, davanti all'ingresso del comando, dove scopriremo la targa con l'asigliazione a Marco e contemporaneamente, visto il tempo, non faremo grandi movimenti, faremo un momento cerimoniale davanti al comando. L'auto della Polizia Municipale, che è la prima auto del comune, di fatto che, avete visto, probabilmente è facheggiata, e l'auto che è stata donata alla mamma di Marco, che è presente. Sono felice di essere qui, con tutta la presentanza. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di amici di Marco, che lo ricordano e non ricordano la verità. Ho pensato a lungo come parlare oggi, in genere parlo senza una guida, però ho preferito oggi scrivere qualcosa, perché sono momenti in cui l'emozione è una volta e prenda, e il sopravvento.